Il governo dovrebbe prendere atto che onestamente vanno cambiate normative, va cambiato l'approccio, va cambiato l'approccio perché è in dubbio che non vi è stata nessuna forma finora di rallentamento del flusso e quindi la strada è quella di rendere i migranti non emergenza ma programmata capacità di governo per la loro integrazione e tutto ciò che questo comporta. Conseguentemente bisogna prendere atto che i decreti che finora sono stati approvati hanno portato addirittura a burocratizzare il passaggio di quello che dovrebbe essere il percorso dai CAS, i centri di accoglienza straordinaria, al sistema SAI, strutture di accoglienza integrata. Con il restringimento che è stato fatto ad esempio ai richiedenti asilo a non poter passare dai CAS ai SAI i CAS si stanno ingolfando mentre nelle strutture di accoglienza integrata i posti ancora ci sono. Il governo deve ripensare molto a quelle burocratizzazioni, a quelle enfatizzazioni come stato d'emergenza in modo molto concreto e pragmatico, studi, percorsi per poterli portare e integrare. E poi la diffidenza che ha creato verso le strutture gestite da organismi di volontariato, da persone che volevano darsi da fare e che lo avevano fatto con associazioni, il fatto di mettere anche quelle risorse perché oltre che il vitello alloggio si possa insegnare l'italiano, questi migranti si possano indirizzarli anche nei luoghi dove possano poi lavorare. Dobbiamo fare questo e quindi onestamente mi sembra che la demagogia abbia poco spazio e io ritengo che ciò che io avevo segnalato quando non volle firmare quell'impatto integrativo al decreto d'emergenza abbia rivelato alla luce dei fatti di oggi quanto avessi ragione.